Cinque nomi per cinque ispettori ambientali. Sono cinque infatti gli addetti al controllo delle norme sul servizio di smaltimento dei rifiuti urbani nominati in settimana dal sindaco di Vallefoglia, Palmi Rucchielli. Maggi Michele, Sparacca Lorenzo, Paci Vittorio, Gurini Caterbo e Balducci Emanuele. Queste sono le figure formate da Marche Multiservizi incaricate di accertare ed eventualmente contestare le violazioni dei cittadini, riportandole poi agli agenti di polizia che a quel punto interverrebbero con una sanzione amministrativa pecuniaria a chiunque abbandoni o depositi rifiuti. Una decisione è arrivata in seguito ai ripetuti casi di inciviltà che si sono presentati in questi anni e che Rossini TV si è sempre impegnata a denunciare. La nome degli ispettori serve per far capire alle persone che non rispettano i regolamenti che non si possono buttare cose fuori dagli spazi imprevisti e consentiti. Le ramaglie e tutte le altre cose possono essere portate nel deposito di Marche Multiservizi a Montecchio, fatta a posto, sollecitato da noi. Questi cinque ispettori nominati da me l'altra mattina servono per far capire che bisogna rispettare le regole e non bisogna buttare le cose se non nei luoghi consentiti delle norme, nei cassonetti, nel deposito per cui riguarda i materiali ingombranti e le ramaglie a Montecchio e quindi un ambiente, una sostenibilità ambientale di primo ordine in una città come quella di Vallefoglio. A livello pratico è quello di vigilare in questi 15.000 abitanti della città di Vallefoglia, che è il terzo comune della provincia, perché non ci siano i fessi che buttano robe dove non devono buttare. Le ramaglie si possono buttare nei cassettoni, si possono portare a Montecchio e tutto va fatto come raccolta differenziata per una buona gestione urbana dell'ambiente.